Trinity, una cittadina tranquilla della provincia americana. Chi si vuole conquistare la stella da sceriffo? Uno sceriffo diverso dagli altri. Vantiamo la percentuale più bassa di azioni criminali di tutto lo Stato. E la più alta di persone scompasse. Se non hai mai visto il volto del diavolo... Io lo so chi sei! Questa è la tua occasione. American Gothic, da giovedì 19 giugno alle 22.45 su Italia 1. Grazie a tutti.